Magnifica la serata ieri sera perché 14 cori provenienti da varie regioni vicine alle Marche ma anche dal Trentino hanno animato chiostri, chiese, cortili di palazzi e piazze, attirando un'infinità di persone per poi confluire tutti quanti nella piazza centrale della città, il luogo cuore pulsante della città e lì guidati dal maestro Donati che è il direttore artistico dell'incontro internazionale abbiamo cantato 350 persone ma hanno cantato un po' tutti quanti, si sono divertiti, tutti hanno scoperto che magari un po' di voce ce l'hanno e che può essere educata quindi è stato un momento veramente bello con il quale abbiamo festeggiato, iniziato i festeggiamenti dei 50 anni del coro polifonico domani sera nello scenario del porto, nello scenario naturale del porto, quindi senza nessuna scenografia artificiale quindi giocando sugli effetti delle luci del tramonto, le barche in porto eccetera rappresenteremo alcuni quadri tratti dal romanzo Maria Risorta che racconta alcuni aspetti di vita marinara di una comunità che abitava il porto allora quando magari era una comunità ricca, piena di sentimenti, di passioni un impianto molto naturale perché il coro tutto sommato non ha poi bisogno di chissà quali grandi architetture musicali che lo supportano avremo solamente uno strumento per dialogare insieme al coro, si tratta della fisarmonica e i brani sono essenzialmente di musica corale, sono quei brani che normalmente il coro frequenta che ha nel suo repertorio e altri brani che sono stati invece espressamente scelti per commentare, sonorizzare la vicenda per entrare nel romanzo Il 45esimo incontro internazionale polifonico che quest'anno è associato al 50esimo anno di fondazione del coro malatestiano ha pensato proprio anche per questo importante anniversario un nutrito ambito di appuntamenti ma la settimana continuerà da giovedì fino a sabato prossimo con altri appuntamenti e avremo cori sempre italiani ma in questo caso conosceremo l'internazionalità corale con due gruppi che vengono dalla Slovenia e dai paesi baschi sono tutti gruppi di grande rilevanza, di grande qualità quindi invito la gente a venirci a seguire da giovedì a San Paterniano, lo stesso anche venerdì e invece l'ultima serata che è dedicata proprio ai cori giovanili per i quali da ormai un po' di anni abbiamo riservato un appuntamento speciale questo infatti è il quarto incontro internazionale di cori giovanili avremo questi gruppi di ragazzi che veramente ci faranno godere di splendida musica e quindi invito tutti quanti a venire alla Pinacoteca San Domenico a seguire questo importante appuntamento Il programma completo dove lo possiamo trovare? Si può visionare sul nostro sito www.polifoniafano.altervista.org e anche su Facebook, proprio sulla pagina dedicata all'incontro internazionale polifonico Città di Fano è possibile seguire tutti gli appuntamenti